Il Bologna in casa ha fatto cose importanti nelle ultime settimane e quindi sarà una partita come al solito piena di insidie, piena di difficoltà perché comunque io ho avuto modo di vederlo e il Bologna onestamente sta in salute anche nella partita che ha perso adesso con la Sampdoria in casa. Pur giocando in dieci praticamente per tutta la partita ha dimostrato grande compattezza, voglia di fare, organizzazione, hanno perso purtroppo per un episodio sfavorevole ma non meritavano, anzi hanno creato anche i presupposti per fare i gol in varie situazioni. Quindi sarà una partita come al solito che ci riserverà tante difficoltà. È chiaro che quando vai fuori casa e pareggi nessuno chiaramente storcia il naso, noi però come caratteristica, come mentalità dobbiamo provare a fare qualcosa e a giocarcela. Anche se sappiamo che, ripeto, tra le altre cose è una partita che è difficile da affrontare tatticamente perché è una squadra che gioca in maniera particolare con un giocatore pericolosissimo che è Diamanti, che si va a collocare tra le linee. Quindi dovremmo fare delle valutazioni attenti e vedere bene cosa fare perché, ripeto, è una partita che io temo, insomma, che mi dà molti pensieri, onestamente. Hai detto che variante tattica? Probabilmente sì. C'è la settimana che uno gioca meglio, una settimana che uno gioca meno bene, quello può capitare. Per esempio questa settimana Jack, che è un giocatore che negli ultimi settimani ha attirato molto la carretta e ha fatto cose straordinarie, questa settimana l'abbiamo un po' monitorato. Non è nei parametri giusti suoi, parlo dal punto di vista fisico, però questo non è detto che poi non possa giocare ugualmente. Magari ci parlerò, voglio sentire lui pure come si sente, però per esempio noi abbiamo dei riscontri che ci dicono che leggermente non è quello delle scorse settimane. Grazie. Grazie. Grazie.